La Valdechiana Rettina conta sui 70.000 abitanti, parte dai numeri l'avvocato castiglionese Domenico Nucci e anche dal suo osservatorio professionale sui reati per affermare che le forze dell'ordine avrebbero bisogno di essere incrementate. Arezzo a Quattro Vallate, il commissariato di polizia si trova a Montevarchi nel Valdarno, a Sansepolcro in Valtiberina e c'è anche un distaccamento a Poppi. Ora, io ho letto le dichiarazioni della Meloni, io credo in questo governo e credo che passi ai fatti. Le dichiarazioni della Meloni sono relative alla sicurezza, è importante, non solo quella dei nostri mari. Nucci propone anche la sede, gli ex macelli di Castiglion Fiorentino, storico stabile adiacente al centro storico che verrà ristrutturato grazie ai fondi PNRR e ospiterà anche la polizia municipale. Sono convinto che a Castiglion Fiorentino sarebbe necessario inserire questo commissariato, perché? Perché Cortona ha un'ottima compagnia dei carabinieri ma purtroppo gli organici sono quelli che sono, ovvero i carabinieri sono sotto organico, anche la nostra stazione è sotto organico, quindi è importante che ci sia una sicurezza per noi cittadini. La sicurezza non la può che dare una nuova sede di un commissariato a Castiglion Fiorentino. Il professionista castiglionese, già candidato in passato, non ha velleità elettorali. Si tratta di dare delle idee, cioè Facebook dà la possibilità, per esempio, di parlare un po' a tutti. Forse in parte aveva ragione Umberto Eco che diceva che è troppo democratico, invece è una bella cosa questa.